I terribili fatti di Parigi hanno interrogato profondamente anche la comunità della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. In tanti sono scesi in piazza per esprimere la propria solidarietà verso le vittime e per condannare una violenza che cerca di cancellare ogni traccia di umanità. Certo, la solidarietà non deve essere scambiata per rinuncia al diritto di critica. Accanto a chi si sente Charlie, esprimendo così la propria vicinanza alla redazione della rivista colpita dall'attentato di Parigi, non bisogna dimenticare che c'è anche chi non si sente affatto Charlie. E questo perché non concorda con un modo di fare satira spesso offensivo per chi crede. Dimenticare questo principio in un momento di grande mobilitazione generale per la libertà, come quello che stiamo vivendo, sarebbe un grave errore. Io credo che la tematica della libertà, della libertà di espressione, di religione e del rispetto della vita altrui attraversi da sempre la vita del cristiano, proprio del suo DNA, direi dalla creazione, se posso dirlo. Oggi ci sono molti fraintendimenti, molti equivoci e ci sono molte tensioni anche causate forse dalla nostra poca presenza e anche forse dalla nostra scarsa preparazione. Fondarsi come cristiani su un'identità forte che da quella parte rispetto di tutte le altre identità. Una situazione che richiede una rinnovata presenza dei cristiani nella società. Anche per riflettere su questo, l'Azione Cattolica si riunirà domenica 18 gennaio presso il seminario di Piazza di Murello per l'Assemblea Diocesana. Al centro dell'attenzione lo slogan Ci siamo. Quindi l'appuntamento dell'Azione Cattolica è proprio uno strumento democratico con cui condividere con tutti gli aderenti, simpatizzanti, amici e chiunque voglia vedere l'idea pastorale di condivisione, di esserci sul territorio, nelle parrocchie, nelle zone.